C'è un sito in internet che si chiama Backstage e che pubblica annunci economici ma è soprattutto conosciuto per quelli di carattere erotico. Vengono addirittura pubblicizzate le varie specialità sessuali. Ebbene, un giornalista del New York Times, Nicolas Christophe, forse approfittando del fatto che le banche non sono più in auge, non sono più circondate da quell'alone di quasi mistero, di rispetto, di considerazione di un tempo, ha pubblicato un articolo di poco esplosivo che coinvolge la notissima banca americana multinazionale Goldman Sachs, per la quale hanno lavorato i più grandi economisti. Per restare nel nostro paese ne cito due, Mario Draghi e l'attuale presidente del Consiglio, Mario Monti. Ma chi c'entra in questa storia degli annunci economici Goldman Sachs? Adesso lo vediamo permettendo che l'intero giro d'affari annuale assomma a 2,6 milioni di dollari. E questi annunci coinvolgono spesso minorenni. C'è stato un caso di una di esse di 15 anni che è stata, dopo averla descata, è stata legata, violentata, venduta sempre attraverso backstage ad altri. Bene, Nicolas Christophe ha raccontato nel suo articolo che Goldman Sachs fa parte, o faceva parte, del Consiglio di amministrazione della società che gestisce backstage. Con ben il 16% delle azioni. Non appena esploso lo scandalo, i dirigenti di Goldman Sachs hanno tentato di disfarsi di quel 16% di azioni da loro considerate maledette. Non sappiamo se ci sono riusciti. Resta il fatto che Goldman Sachs, per oltre sei anni, ha seduto nel Consiglio di amministrazione della società che gestisce backstage. Da qui una considerazione. Se c'è ancora qualcuno che pensa che il sistema capitalista, economia di mercato, possa in qualche modo rendersi accettabile in futuro, pulirsi, faccia pure. Noi invece sappiamo che un mondo, i cui affari vanno dal petrolio, passando, è il caso di dire per i casini e magari per la droga. Il tutto per far soldi, che come noto non hanno odore.